La pool Scudetto, 0-0 al termine del primo tempo, nella ripresa tutti i gol, sblocca il risultato Ciro De Cesare su calcio di rigore, raddoppia poco dopo Polani, poi arriva il Tris di Chiavoro, entrato nella ripresa al posto di Giubilato, il definitivo 4-1 dopo il gol che ha accorciato le distanze da parte dell'Interreggio, il definitivo del 4-1 come dicevamo è stato segnato dal brasiliano Gustavo, anche lui è entrato nella ripresa.